oh che bella novità dopo tantissimo tempo finalmente è tornata stiamo parlando di ford edge in questa fantastica versione 2.000 di cilindrata 210 cavalli con allestimento st line quattro ruote motrici si tratta di un'auto aziendale con singolo utilizzatore con 21.382 chilometri passato tutti i cento punti di controllo dei nostri automotive expert come si può notare infatti l'auto è perfetta esattamente come i suoi cerchi lega grigi satinati e i fari full led si tratta di una vettura davvero premium lo notiamo anche da questi dettagli la scritta illuminata i sedili in pelle morbidissimi di alta qualità tenuti benissimo a bordo ci troviamo davanti a un infotainment davvero ricchissimo possiamo notare il volante con i comandi integrati tra cui cruise control comandi vocali comandi di gestione delle chiamate anche il computer di bordo digitale come lo schermo touch possibile poi selezionare il tipo di computer di bordo che vogliamo vedere tra le assistenze di guida troviamo la retrocamera con i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e la rilevazione dei cartelli stradali tra le altre assistenze anche il line assist il sistema di infotainment ci offre poi la radio dub il clima automatico e bizona gestibile sia dallo schermo che dai classici comandi analogici bluetooth per il telefono la navigazione l'app connect per connettere lo smartphone e le impostazioni della vettura e del sistema diversi vani porta oggetti due prese usb un pozzetto molto profondo devo dire che fa chiaramente da appoggio a braccio gli interni con questi dettagli in pelle stilosissimi sono davvero comodi e spaziosi passando il piede sotto alla vettura si attiva lens free e si apre il portellone automatico fantastico troviamo un bagagliaio poi spaziosissimo con il subwoofer davvero ottimo questi i comandi per abbattere i sedili e qua sotto abbiamo anche il ruotino di scorta davvero non so cosa darei per potermela portare a casa io fossi in voi non me la farei scappare per questo vi consiglio subito di correre su rattiauto.com il link è in descrizione troverete questa ford edge e potrete riservarla con solo 100 euro per 14 giorni così avrete il tempo di pensarci di vederla dal vivo di provarla tutto quello che volete vi basta prenotare un appuntamento ci potete contattare ovunque su tutti i social poi i nostri recapiti telefonici o su whatsapp quest'auto come tutte le nostre auto usate ha passato i 100 punti di controllo su meccanica elettronica e carrozzeria verrà poi lavata igienizzata e pianificata totalmente prima di esservi consegnata noi vi aspettiamo qui in showroom a presto ciao